La vita non è fatta di assoluti, ma di bianchi ingialliti e neri sbiaditi, di grigi impolverati e rosa pallidi con una punta di verde marino. Nella vita non ci si capisce mai un cazzo, fattuale. Mario e Luigi fraternato e alla carica è un gioco entusiasmante, per come non si risparmia mai, per come continua a proporre soluzioni fresche e a variare sul tema anche dopo un milione di ore di gioco, conteggio approssimato per difetto, per come ti sorprende e per come si lascia sbucciare poco alla volta, senza straziarti di informazioni poco necessarie. Mario e Luigi fraternato e alla carica è un gioco anche molto irritante però, con i suoi gozziglioni di tempi morti, di infiniti caricamenti, di dialoghi insulsi, di combattimenti trascurabili e altri dialoghi insulsi. Hai tra le mani questa cosa che brilla, magari non sempre fortissimo, ma che poi fa di tutto per infastidirti con le peggiori scelte sbagliate. Mario e Luigi fraternato e alla carica è sia tutto giusto che tutto sbagliato, creta modellabile che può essere ferro e può essere piuma, ma può essere anche una malattia venerea o un girasole, a seconda di come gli gira. Quasi un capolavoro eppure così vicino alla porcheria, impossibile da raccontare, e infatti non ci avrete capito molto, ma mica è colpa vostra, è la vita.